Bimbe, partiamo? Qualcuno vuole partire o vuole restare a Novara? È ora di alzarsi, amore! Si parte! Partiamo, bimbe? Andiamo in Inghilterra? Arrivati in aeroporto a Malpensa. Sei contenta? Eccitate? Ciao! Vai che si parte tra poco! Ora andiamo in bagno, sai che prima sono andata con Anastasia e non riuscivo più ad uscire dal bagno, mi stava venendo un attacco di panico e adesso ti faccio vedere perché. Io tentavo di aprire qua e non si apriva. È rimasto schiacciato ed è giusto perché comunque schiacciando si blocca. Allora mi era venuta l'ansia e gli ho detto Anni non riesco più ad uscire, poverina lei si è alzata di colpa dal gabinetto e poi ho detto senti devo ragionare, calma. Allora poi ho schiacciato questo. Sì io sono un po' imbranata in queste cose, mi viene subito l'ansia, amore, laveci le manine. Ok? E adesso andiamo a cercare un attimino io e te una presa adatta all'attacco inglese. Ok? E ti dico già? Solo la presa eh? Ora adesso mi devi dare una mano appesa con la parete, ci sono delle parti elettroniche, vedi se la trovi. Ti ricordi un po' com'era l'attacco inglese? No. Adesso guardi alto. Allora Vane c'è ma costa 50 euro e non la compro, vediamo se l'azia ne ha uno ok? Ok. Andiamo al gate, dai andiamoci a sederci così quando dobbiamo imbarcarci siamo pronti. Amore! Guarda cosa c'è l'iPhone! Sì! È il nostro! Dove siamo? Adesso riprendo i biglietti perché ne ho le scatole piene. Vai guarda via! Almeno ci sono due gocce! Ciao Aeri arriviamo! Sapete che dove c'è la pia ci sono due gocce? In Inghilterra? Sì amore, sì! Ci siamo seduti sull'aereo, io e papà e te siamo qui, ciao papà e dall'altra parte abbiamo non Elisa? Tutto ok? Ciao! Va bene per te stare in mezzo Vanessa? Gli ho chiesto, mi ha detto che va bene così. Vane, si parte! All'esterno, gonfiatelo tirando la meglia. In caso non si gonfiate, stiamo per partire, i motori si sono accesi e per me, questo è il momento più adrenalinoso che ci sia, io amo, il momento in cui l'aereo si stacca dalla terra e qui ci vediamo tra pochissimo proprio in quel momento, ok Ani? non si vede perché, non si vede ma stiamo partendo eh, vediamo se riesco a farlo vedere un attimino, cucciolini, vedete i cucciolini? Siamo in movimento, sì adesso si stacca, papà Uglia cosa fai? Allora Anastasia spieghiamo i posti, io, ho fatto che abbiamo già spiegati? Io e te siamo seduti con papà, mentre Vanessa con Daniel e la nonna Elisa. Senti, senti, senti il motore, sentite il motore che si accende, che c'è che si accende no, che accelera, Anastasia ci siamo? Sì, ci siamo, senti i motori? Sono al massimo, tra poco ci stacchiamo da terra, tra poco, uuuuuh, sì, che meraviglia, che meraviglia ragazzi, simula, bellissimo, Vanessa come va? A Vanessa non piace molto eh, lei preferisce stare di qua, però c'è Daniel oggi e la nonna, abbiamo le mani unite, guardate, non vedo, mannaggia, bellissimo, allora amore fammi vedere che cosa vuoi sgranocchiare sull'aereo, perché tu non hai fatto colazione e noi arriviamo a ora di pranzo, voglio questo e questo, kitkat, quindi le patatine e le frigole, sì, e poi siamo arrivati, no, perché questo volo dura un'oretta in più rispetto a come quando andiamo in Sardegna, ma solo un'oretta in più, vuoi l'acqua? E' lì in amore, con brinkos e kitkat, tu prendi sempre questo quando vogliamo, vero? Vero, buono, è freddo? Adesso passiamo un po' l'aria eh, mamma mia, ma tu la mangi così la barretta dei kitkat, non sta più un kitkat per volta? No, al burger king così, ma no, tutto insieme così? Oh wow, piano piano eh, poi ce ne sono 4, 4 e il burger king 2, è vero, questo è doppio, sì, Anessina, hai mangiato qualcosa? Nulla? Non hai fame oggi? Ma scusa, nel reparto hai mangiato? No, vuoi assaggiare il mio maffi? No, ok, Anessina si è addormentata, eh? Tra poco arriviamo, un'ora ragazzi, un'ora fredda, bellissimo, sicuramente, ma sì dai, è un'esperienza, ma ma adesso è fredda? No, 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 al mio maglioncino si può, se si è addormentata, ok, però un po' la segniamo quando inizia la discesa, va bene? Ok, va bene, non hai sonno amore? No, no, sei super concentrata con i giochini? Sì, sei super eccitata, vero? Sì, non lo so, mi raccomando, visto che tu dormirai dalla zia, fai la brava la sera, eh? Sì, quando è l'ora di andare a dormire si va a dormire? Sì, magari poi, se possiamo vedere un po', mettiamo un po' di film. Un film, in inglese? Sì. Brava, bello. Discesa effettuata, eh? Si sente tantissimo dalle orecchie che stiamo andando giù e tra pochi minuti siamo con la zia, siamo con la zia Samantha e con lo zio di on e poi oggi pomeriggio, maxi sorpresa, Isabella e Ari. Io mi voglio, io mi voglio nascondere nel loro armadio. Cucciolini, scrivi. Anche io, perché lei magari arriva a casa per l'armadio dopo un pochino, ma noi poi usciamo dall'armadio piano piano, togliamo le scatte, facciamo piano piano, va bene, non stanno. Cucciolini, ascoltate. Sapete che Vanessa, non mi ricordate quel video che Vanessa faceva i versi? Per ridere. Cioè, Vanessa fa un verso e noi dobbiamo uscire dall'armadio. Vi metto il link in descrizione di quando Isabella e Ari a sono venuti in Italia, noi ci siamo nascoste nell'armadio e Vanessa aveva una specie di singhiozzo stranissimo, sembrava quasi riposseduta e non riusciva più a smettere di fare questo verso. Quindi, ascoltate, scriveteci nei commenti se voi preferite che noi andiamo a farle una sorpresa sulla strada quando escono da scuola o che ci nascondiamo in macchina, in macchina, scusate, a casa da qualche parte, ok? Scriveteci nei commenti, va bene? Per toccare terra, dai. Senti, senti, senti le ruote, guardami. Tieni, tienimi la manina. Senti, senti. Presa, il pavimento. Ok, recuperiamo la valigia di Daniel, che? Io mi metto qua sopra e dov'è, dov'è, dov'è? Mamma, io vado qua sopra e vai qualche in giro, amore. Sei felice? Non ti ho potuto parlare molto in aereo perché eravamo un pochino lontani, ma sei felice? Quanto? Sei pronto a fare i superscarpoli? Non vedevi loro, amore, ci siamo. E questa no. No, adesso arriverà. Era prima. Era qua prima e noi non c'eravamo. E siamo in macchina finalmente verso casa e guarda un po' che strano. Guarda papà, senza volare. Ma non guida, papà, guardate un po' il volante a destra. Benissimo, adesso io me la farò sotto perché non ci capirò niente. Dai che tra pochi minuti siamo dalla zia Samantha, ma non da Isabelle Aria, perché dove sono Isabelle Aria? A scuola e quindi dobbiamo escogitare tutto. Dai, adesso mangiamo e poi pensiamo a tutto. Di là c'è Daniel che guida, invece, fantastico. Guardi a casa della zia Samantha, guarda qua, ciao! Bene, pranzo finito, tra pochissimo andiamo a prendere le bimbe a scuola, sorpresona, ok? Tra poco, sono già le 3. Quasi le 3. Ciao! E tu cosa stai facendo? Stai giocando con la casa di Aria? No, le ho ordinata. Le ho ordinata tutta, amore! Che brava! Sei contenta che tra un po' vedi la tua cuginetta? Sì! Giocate insieme? Sì! Hai freddo, Ani? Vuoi mettere adesso la felpina? No! No? Va bene, andiamo a vedere la cameretta di Aria. Sono morbide? Ciocca! Cucciolini, questa è la casa di Isabella e Aria. Che bella! Mi fatti per scuola? Che gente sopra! Dove vai? Chi dorme qua? Qua? Vanessa qua. Ah, bellissima! Ma, guardate! Vediamo! Tadà! Tadà! E venite qui! Con il computer! E fammi vedere! Guardate! Wow! Meraviglioso! Che cosa c'è, amore? Guardate! Questa è la stanza della zia, andiamo a vedere la stanza di Aria. Venite! Vediamo! Guarda! Dormiamo! Io e Aria! Ma è grandissimo! Io e Aria! E la stanza di Aria! Perché è la stanza di Aria, Isabella e l'altra! Eh, ho capito! Quando dormiamo io e Aria! Ma sei sicura? È grandissima questa stanza! Eh, è fatta di qua o di là, non lo so! Mamma mia! Io dormo di qua o di qua! Mi sembra più grande questo letto rispetto al nostro, no? Sì! E guardate! C'è anche! Adesso non metterle in disordine! Cagnolino, amore! e rimettigli a posto, eh! È bellissimo! Così poi quando arrivare giocate insieme! Va bene? Sì! Guardate anche qua! Che bello! Questo è lo scaccio! Cosa facciamo? Guardate! 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 Tipo il mio! Amore! È vero! Tipo il tuo! Sì! Cosa? Questa è la camera della zia! Guardate! Che bello! Che bello! Guardate! Bellissimo! Ma è della zia questo! Vero? Sì! Senti! Vado in bagno un secondo e poi andiamo! Va bene, amore! Dai che ci dobbiamo preparare per la sorpresa! Questo è bellissimo! Che ci ha mento un leggo che si accende! Ma veramente? Sì! Mai visto io! Vado, amore! Posso? Guardate! Va bene! Dai! 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 Che vado! Dai! Siete pronte? Sì! Stiamo andando a prendere aria! Eh? Adesso vediamo di trovare un cespulio dove nasconderci! Va bene? Siamo scese e a pochi passi là in fondo c'è la scuola di aria! C'è la scuola di aria! Contente? È arrivato il grande momento! Sì! Adesso vediamo se riusciamo a nasconderci prima che esca aria perché altrimenti la troviamo già fuori che ci vede e guardiamo che faccia fa! Eh? E poi arriva Isabella da sola a piedi e lì dobbiamo nasconderci per forza! Eh? Ok? Ok ragazzi ci siamo quasi! Si sono sentite delle urla di bimbi che secondo me hanno terminato la lezione e sono super felici! Un po' come da noi! Guardate che belle stradine! Guardate! Guardate che bella porta! Ci siamo! Ci siamo! Sta per uscire aria! Il problema è che guarda lì! La vedi quell'altra scuola là in fondo? Da lì arriva Isabella! Quindi speriamo che esca prima aria e che non arrivi prima Isabella! No no no! No no! Speriamo di no! In teoria no! Ok! Salute scendi bimbi! Ne ho vista una piccina piccina! Non è aria! No! Non è aria! Ho sentito Anastasia! Anastasia! No! No no! Ok! Una bimba è uscita! Eccola arrivata! Spostatevi! Spostatevi! Sta arrivando! Sta arrivando! Abbassati! Abbassati! Cucu! Amore! Ciao amore! Amore! Surprise! E rivesta un po' così eh! Ragazzi adesso siamo nascoste qua dietro invece perché sta per arrivare Isabella! Daniel ti devi abbassare sei troppo alto! Stai arrivando! Stai arrivando! Stai arrivando! Silenzio! Daniel abbassati! Tu sei troppo alto! Ti vede? Yes! 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 Ragazzi arriva! 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 Ragazzi guarda! Guarda ce lo ciao! Che c'è lo zio! C'è lo zio! C'è lo zio di Isabella che ci fa da scudo! Pronti? Tro ubhi siete pronte? Siete carichi? Anche la zia ci fa da scudo! Non viene! Non viene! Eh sì! sta chiacchierando, ha ragione! pronti? eccola, 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 c'hai visti! a daniel? lo sapevo! cosa state mangiando? il muffin? cioccolato? si amore? buono? allora adesso finite di fare merenda, state mangiando solo una o due? e poi diamo i regalini alle bimbe, ok? va bene? ma c'è il carrettino del gelato! bello! vanessa con il gelato hai scelto? con la nutella? è buono? vediamo! buono! ma cos'è? cioccolato? sembra cannella! dani come l'hai preso? con la nutella! anche te! buono che questo! diamo i regalini ad aria e isabella! un bel 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 ok isabella ti aiuta la nonna che bello che ha scritto isabella sempre per isabella tieni isa e per isabella un completo belli questi insieme ti piacciono belli 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 il compleanno di valestina questo per questo paletto l'avevi dimenticata al mare e questo è per anni pensierino anche per anni un'altra pochette per te vediamo posso vedere anch'io oh che belli bellissimi vediamo questo vediamo quello che belli amore c'è un'orecchietta c'è un'altra cosa che belli per la u i smalti anche questo è un smalto ma è solo un rossetto mamma mia e come si dice sono due gemelline fatevi vedere senti Anastasia ma andiamo nella casetta nostra un attimo tu vuoi stare qua con Aria? si noi due dormiamo qua si lo so allora vado io un attimo con papà e la zia Samantha e la ragazza e la nonna qua ok bene ascolta noi andiamo a mettere le nostre cosine voi vi state truccando guarda che questo è qua è tuo senti poi guarda la felpa che ti ha regalato lo zio Rochan che è bellissima e corta bella è corta la felpa zio Rochan presents for Vanessa ok così poi lo ringrazi va bene? è già fuori l'ho già tirata fuori ci vediamo dopo allora non fatevi troppo belle ciao ciao allora bimbe tra poco usciamo adesso vado su a vedere cosa sta facendo Vanessa e Anastasia concludiamo il video eh scusa Vanessa e Isabella eh e poi ci vediamo domani con un altro video con Isabella e Ari ok vi siete vestite? fatemi vedere un attimo ma ma vedo doppio ma siete vestite uguali? sì bellissime Isa fammi vedere wow sei vestita come Vanessa ragazzi ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao ciao ciao